Ho conosciuto Nicolin sin dai suoi primi passi nell'arte del teatro e l'ho seguito infine fino alla sua malattia alcuni anni. Nicolin era una personalità che faceva un'impressione indelebole, indelibile, indelibile. Aveva una perspicacia, una presenza di spirito e un'attività teatrale enorme. Non si confondeva mai nelle sue partiture anche casomai avesse dimenticato una particolarità era capace di improvvisare e di far risultare meglio tutto quel che si era un'attività. Grazie. 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 Grazie a tutti.